salve in questi due video parlerò delle maschere e del rotoscoping delle maschere ho già parlato e fatto qualche esempio nel video 8 di questa playlist ma adesso ne approfondiremo l'uso e soprattutto parleremo delle novità che sono una vera e propria rivoluzione del rotoscoping c'è poco da dire se nell'rgg non possiede gli strumenti per fare rotoscoping purtroppo siccome lo strumento maschere abbastanza potente e con le novità introdotte lo è ancora di più si possano usare workaround in modo da mimare un poco alcune proprietà di un roto ma non potremo mai avere un vero rotoscoping per quello dobbiamo rivolgerci a programmi di compositing come per esempio l'ottimo netron in sinelera lo strumento maschera funziona creando una figura chiusa da modificare questo per molti è scomodo e limitante ma credetemi basta poco per prenderci la mano inoltre in sinelera si possono usare vari workaround per avvicinarsi ad un roto per esempio usare più copie di ogni traccia con le relative maschere ma i lavori diventano più lunghi e complessi un punto a favore di sinelera gg è invece la recente aggiunta del plugin tracer che permette di ricalcare i confini delle figure un po come il laso di gimp è uno strumento potente ma impreciso che richiede tempo e studio per usarlo efficacemente ci sono molti buoni consigli da dare sull'uso delle maschere e di questi parlerà questo video molti dei seguenti punti sono stati ripresi dall'ottimo libro di steve wright digital compositing per film e video 1 partire sempre da filmati di alta qualità e senza rumore si può renderizzare il file in un intermedio digitale dopo aver applicato un denoise avere un footage pulito ed omogeneo è indispensabile per fare un lavoro preciso e per minimizzare i problemi provate voi a fare una maschera con un video del genere ne ho già parlato diffusamente nella playlist sulle immagini digitali e anche in questa stessa serie su sinelera gg nel video 14a quindi non approfondirò ulteriormente la questione 2 esaminare bene tutto il filmato dobbiamo fare il roto frame per frame o ci sono dei movimenti lineari della figura da mascherare che possano essere fatti con salti più consistenti di frame i piccoli dettagli problematici possono essere risolti facilmente o richiedono altri strumenti come per esempio una chiave di estrazione quali sono i punti più critici del filmato 3 iniziare la mascheratura dal frame più complesso che mostra bene il maggior numero di dettagli della figura e che richiede il numero massimo di nodi infatti come si è visto nel video 8 il numero dei nodi non deve essere mai variato nel corso del filmato se non è possibile meglio suddividere lo shot in più spezzoni da spostare in tracce diverse ognuno con le sue maschere per esempio in questo filmato ho scelto il frame dove si vedono tutte e quattro le gambe del capriolo perché è il più complesso e che richiede più nodi 4 è importante quando creiamo un nodo per esempio nell'incavo di un gomito di una persona che tale punto di controllo rimanga sempre associato all'incavo del gomito anche nei frame successivi e lo stesso vale per tutti gli altri nodi ovviamente si chiama coerenza dei punti di controllo e serve ad evitare lo edge jitter cioè il tremolio dei bordi ricordatevi del concetto di coerenza dei nodi è fondamentale 5 edge jitter cioè bordi tremolanti passando da un fotogramma all'altro un'imprecisione dello spostamento dei nodi può portare durante il playback ad un piccolo tremolio del bordo della maschera in pratica spostandoci da frame a frame la linea della maschera si muove leggermente all'interno e all'esterno rispetto al bordo della figura producendo una instabilità un tremolio facilmente avvertibile che disturba la visione del filmato è importante essere precisi proprio per evitare questo brutto effetto insomma non possiamo mettere i nodi a caso ma dobbiamo scegliere accuratamente il loro posizionamento e successivo spostamento 6 dividere la figura in più roto blocchi cioè a seconda della complessità del movimento e del livello di dettaglio a cui vogliamo arrivare la divisione va fatta osservando l'intero filmato e cercando di individuare le parti che si muovono rigidamente senza cioè coinvolgere altre parti vicine e senza deformazioni eccessive per esempio se la mano si muove rigidamente tutta intera si fa un unico roto della mano se invece si muovono anche le dita ma rigidamente e indipendentemente le une dalle altre si fanno anche il roto di ogni dito se i movimenti sono ancora più complessi si può arrivare a fare il roto di ogni falange un mucchio di lavoro vero ma è l'unico modo per ottenere un risultato preciso in questa situazione se nell'rgg mostra i suoi limiti sia perché non si possano fare più di otto maschere per traccia sia perché tali maschere non sono fra loro indipendenti un tentativo oltre a quello di lonare la clip su altre tracce è quello di usare contemporaneamente lo strumento maschera e plugin tracer che è una specie di laso di gimp 7 fra un che frame e l'altro è consigliabile traslare ruotare ridimensionare il roto creato nel crefè in precedente nella sua totalità senza intervenire sui singoli punti di controllo la maggior parte delle volte queste saranno le uniche modifiche necessarie senza bisogno di altri aggiustamenti o variazione dei singoli nodi ovviamente dovremo aver ben scelto i blocchi da mascherare oltre a sveltire e semplificare il lavoro questo modo di procedere serve anche ad evitare il tremolio dei bordi 8 attenzione a personaggi immobili sembra e bassi un unico roto fisso ma in realtà ci sono tanti piccoli movimenti che richiedono degli aggiustamenti 9 usare i keyframe sempre fra un intervallo pari di frame si parla infatti di 2s o 8s eccetera intendendo un keyframe ogni due frame ogni 8 frame eccetera questo perché se il risultato non è soddisfacente e occorre intervenire fra i nostri keyframe si procede di metà in metà cioè mettendo un nuovo keyframe fra due già presenti ottenendo sempre intervalli pari non sto dicendo che bisogna usare sempre lo stesso intervallo per esempio 2s se il filmato lo permette si può passare da 2s a 8s o altri intervalli continuamente cercando sempre di minimizzare il numero di keyframe necessari l'importante che ogni intervallo usato sia pari e questa è una tecnica derivata dall'animazione per chi 10 restare con le linee della maschera sempre all'interno della figura in modo che quando sfumiamo con lo strumento feather o blur non siano coinvolti pixel dell'ambiente che introdurrebbero disomogeneità e artefatti visivi attenzione anche a non esagerare a stare all'interno per non ridurre troppo la figura 11 usare bispline o besier per riuscire a usare meno nodi possibili vedere anche un esempio fatto nel video 8 usare meno punti di controllo rende più veloce il lavoro c'è meno possibilità di introdurre errori e riduce la possibilità di avere il jitter 12 se possibile è meglio tracciare il ruoto con lo strumento di motion tracking perché permette di diminuire il numero di keyframe da utilizzare purtroppo insieme nell'rgg il tracciamento è piuttosto lungo e complicato cosa ne sconsiglia l'uso durante le mascherature 13 creare una maschera grossolana intorno a una figura si chiama gear beige matte serve a escludere una parte dello sfondo che magari presenta troppe irregolarità oppure nascondere particolari che non vogliamo siano coinvolti nei processi che seguiranno per esempio un chroma key 14 ci sono parti della figura e coi bordi vanno ricalcati con molta precisione altre possono essere fatte più grossolanamente risparmiando nodi 15 se possibile girare due filmati uno con la figura da mascherare e una con il solo sfondo in fase di editing compositing ci permetterà di fare interventi molto creativi 16 netron permette di colorare la figura per esempio di un leggero rosso in modo da facilitare il riconoscimento dei bordi mentre facciamo il roto della figura in sinelera gg possiamo usare una copia della traccia che coloreremo di rosso e che apparirà quando applicheremo e modificheremo la maschera finito il lavoro possiamo eliminare la traccia rossa il lavoro di mascheratura rotoscoping è sempre lungo e ripetitivo ma estremamente potente e importante quindi cercate di fare lavori precisi infine chiudiamo questo video enunciando i limiti intrinsechi nell'uso delle maschere 1 le trasparenze parziali se il filmato c'è del motion blur sarà impossibile ottenere un roto perfetto 2 numerosi dettagli fini per esempio capelli mossi dal vento per fare un ricalco realistico correrebbe un numero incredibile di noti cosa impossibile da gestire il risultato non sarebbe comunque soddisfacente meglio ricorre ad altri strumenti come per esempio le stazioni di chiavi 3 il jitter troppo visibile si può solo limitare lavorando con molta precisione 4 la mascheratura sempre un costo elevato in termini di tempo richiesto e di lavoro manuale bene con questo abbiamo terminato la parte teorica e possiamo passare ad esaminare lo strumento maschera e se ne legge a Gigi grazie a tutti grazie a tutti